Ciao a tutti! Oggi ho preparato questo dolce ripieno di crema al latte, molto buono e veloce da fare. Se pensate di essere interessati, seguite il video. Ciao! Comincio dalla pasta. Metto in una ciotola 100 g di burro e 100 g di zucchero. Frullo fino a ottenere un impasto chiaro e cremoso. Aggiungo un uovo. A parte preparo 100 g di farina e un cucchiaio lo metto nel composto. Poi metto il secondo uovo. E il resto della farina, a cui ho unito una bustina di vanillina e mezza bustina di lievito. Prendo una tortiera di 20 cm di diametro, ricoperta di carta da forno e verso l'impasto. Cuocio a 180 gradi per circa 25 minuti. Intanto preparo la crema al latte. Metto 250 ml di latte in un tegame e lo porto a bollore. A questo punto unisco 50 g di zucchero, 25 g di maizena e un cucchiaino di miele. Mescolo per evitare grumi. La crema è pronta quando diventa densa. Una volta che si è raffreddata, aggiungo 100 ml di panna montata e mescolo. Prendo la base, la divido in due dischi e su uno stendo uno strato di crema. Ultima cosa, metto 100 g di cioccolata al latte e la scorza grattugiata di un'arancia in un tegame e faccio sciogliere. Quindi ricopro la torta con la cioccolata fusa. Et voilà! Vi consiglio di provarla. A noi è piaciuta molto. Ciao! Ciao! Grazie a tutti